C'ha pagato pizze, è nata. Ah. Mi chiamo a cucchiare che da mia, è nata. Siete. Capizze? C'è insieme a te la rosa quanto da con noi. Quanto? Dirici. Id. Id, io. Eh, rid? Rid. E' nuace? Miante. Uamo! Miante. Eh, mettite al lavoro. Tommaggine, c'è, vuoi dire... Ah, perché te, perché te ce l'ho scritto dalla tua manata, via. Capizze? Eh, buzze, me lo ha dato. Eh. Cos'altro dice che io non ha fatto niente e c'è qualche euro qualche 700-800 euro. Capizze? Che va a fare. Eh, cos'altro dice minchia che è un dato. Scusate, c'è quello che c'è. C'è quello che c'è.